Se l'ho dato Gesù Cristo, un saluto carissimo a voi che ascoltate. Ecco dunque la parabola che Gesù ci offre oggi, quella dei talenti e delle ricompense. Talenti e ricompense sono grazie, date, perché noi possiamo diventare, meritare qualcosa senza che ne abbiamo nessun merito. Che vuol dire? Siamo creature di Dio, disposte al bene e Dio chiede a noi su questa terra di far fruttificare il bene, perché questo frutto, questo impegno che noi mettiamo nel far frutto, secondo quelli che sono i beni di Dio e non i nostri, produce in noi una grandezza, uno sviluppo, una crescita della misura spirituale e del nostro volto che si configura quello di Cristo. L'uomo ha immagini di Dio, ma l'uomo in quanto tale, l'uomo perfetto, il più bello tra i figli dell'uomo, come lo canta la scrittura, è il Cristo. E noi siamo incorporati a Lui e dunque siamo parte di Lui. In noi fluisce il suo sangue che al tempo stesso ci purifica, ci santifica e ci rende fratelli suoi, che è mio fratello, che è mia sorella, che è mia madre o padre, chi compie la volontà del Padre mio. E questa volontà del Padre viene compiuta grazie allo Spirito Santo che Egli dona a noi. Quindi se dobbiamo dare una qualifica dei talenti, si tratta proprio del dono dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo che rende noi capaci, non solo per i mezzi materiali, le occasioni, le situazioni, le predisposizioni naturali che Dio ci dà, a fruttificare secondo le opere dello Spirito. Le opere dello Spirito sono tutte quelle che esercitano la carità in quanto tale, che vuol dire è l'amore perfetto, l'amore che dona senza voler ricevere e avere nulla in cambio, è l'amore che sacrifica se stesso per il bene dell'altro. Frutti spirituali sono dunque la crescita dell'amore nostro e la crescita dell'amor di Dio negli altri. Una carità dunque che va a colpire nel segno non solamente non materiale, ma soprattutto spirituale, cioè che ci dà la possibilità di incontrare Dio, la carità ricevuta, sperimentiamo Dio, il suo bene, il suo amore e comprendiamo la nostra chiamata alla vita eterna. La nostra anima immortale è destinata a vivere nella pienezza con Dio. Diversamente è l'inferno, è la privazione, è piatto, sedore di denti, è rammarico, è egoismo allo stato puro. È quello che noi abbiamo fatto, coltivato sulla terra, frutti per noi stessi e non per Dio. Dicevamo che il dono che Dio ci dà, cioè i talenti, sono proprio lo Spirito Santo di Dio. Ed è in un'altra parabola in cui Gesù dice se voi che siete cattivi e date cose buone ai vostri figli, ma se lo chiedete al Padre nostro qualunque cosa di cui avete bisogno, il Padre che nei Cieli vi darà lo Spirito Santo. E dunque questo è quello che noi chiediamo, quello che noi desideriamo e dunque quello che noi otteniamo, perché lo Spirito Santo è quella potenza vitale, creatrice, è quell'energia, quell'amore, quella luce che ci fa vivere qui sulla terra da esseri divini, pur con i limiti di una corporeità e tutto quello che appartiene alla nostra persona, ma con un processo di purificazione, di innalzamento, di elevazione, di raggiungimento dello stato divino, così come Dio ha voluto per noi. Dunque la parabola dei talenti ci dice che noi riceviamo tutto per grazie e non per merito. E l'occasione perduta che abbiamo, se l'abbiamo perduta, cioè di mettere a frutto i talenti che Dio ci dà, l'occasione perduta viene ricompensata con la privazione totale di tutte le grazie. Infatti queste sono un bene, un tesoro di Dio, sono sostanza stessa di Dio che si comunica a noi e che non possono essere condivise con chi non le vuole o chi le odia. Ecco che il talento viene dato a chi ha già dieci talenti, perché a colui che più ha dato in questa terra, su questa terra, cioè chi più ha prodotto qualcosa di buono, più verrà ricompensato. Chi meno invece ha dato, chi non ha dato, verrà tolto anche quello che crede di avere, perché colui che rifiuta di cooperare con Dio e seppellisce il talento, crede di avere la propria vita, crede di avere dei diritti, crede di avere una vita propria indipendente da Dio. Verrà tolto anche quella, perché tutto è di Dio. E in questo senso tutto ciò che è bene, sostanziale di Dio, torna a Dio e viene ridistribuito con coloro che condividono di buon cuore, con tutto il cuore, la volontà di Dio. Dunque i beni di Dio non vanno spiegati, non si annullano, non vanno a finire a vuoto, perché Dio misura tutto, si riprende quello che è stato rifiutato, come la pace che torna su chi l'ha data, ma chi l'ha ricevuta non la voleva, si riprende tutto e viene ridistribuito fra coloro che sono fedeli a Lui. Il mondo di Dio è un mondo tutto completo, senza inclinature e senza presenza del male. Questa compresenza di bene e male è solamente un fattore temporaneo che appartiene alla dimensione della nostra vita materiale, terrena qui sulla Terra. Le cose nel mondo spirituale sono ben divise. Quando dunque noi faremo la scelta per Dio, lasceremo qua tutte le impurità, perché le abbiamo volute lasciare, tutto quello che ci assimila o ci lega all'egoismo, al demonio, allo spirito del male, per essere completamente di Dio. Questo processo, quando si compie qui sulla Terra, mediante la fruttificazione del bene, ci porta a uno stadio perfetto, in grado di essere presentati a Dio nella perfezione del progetto che Lui ha su di noi. E questo si chiama Spirito di Santità, Santità che brilla in noi e dunque noi diventiamo gloria di Dio, perché siamo figli viventi per il Suo Spirito. Dio vi benedica.